Intanto bisogna fare complimenti al Catania, se sono difesi bene, col sangue agli occhi, il fatto di rimanere in dieci per assurdo l'ha galvanizzata in una fase passiva e poi come abbiamo visto dato che noi nei minuti finali siamo andati anche allo sbaraglio, potevano anche vincere. Quindi complimenti intanto al Catania. Contropiedi lasciati al Catania inopinatamente, ci siamo buttati allo sbaraglio, siamo rimasti due contro due, si pensava che noi dovevamo vincere solo perché eravamo dieci contro undici, si poteva fare quello che si voleva, ecco perché bisogna crescere, maturare. In tre anni siamo maturati tanto, in questa rosa sono arrivati altri giocatori giovani da dover capire che lottare per le prime posizioni è ben diverso che lottare nelle squadre normali e questo è quello che aspetterà a me di fare come credo aver fatto abbastanza bene in questi tre anni precedenti. Grazie. Grazie.